L'Europa ci costringerà a scrivere che il vino fa male alla salute? Ciao, sono Michaela Foti della redazione di Breaking Italy. L'Irlanda lo scorso giugno ha informato la Commissione Europea di una proposta di legge. Vorrebbe mettere sull'etichetta degli alcolici delle frasi che avvertono sul pericolo del loro consumo. Nonostante 8 paesi europei, tra i quali l'Italia non fossero felicissimi della misura, la Commissione non si è opposta e l'Irlanda è data avanti per la sua strada. Ma la decisione riguarda solo l'Irlanda, non tutti noi. Non c'è una misura europea simile in programma. Ma allora perché ci siamo così tanto arrabbiati? Le motivazioni di chi si è opposto alla misura sono principalmente tre. Uno, questa decisione rischia di diventare un precedente, che andrebbe a colpire proprio i vini, di cui in Italia siamo i primi produttori al mondo. Due, vini e birra fanno parte della nostra cultura europea. Non bisogna fargli la guerra. Tre, c'è chi crede che queste etichette non serviranno a sensibilizzare sul tema. E che tanto vale agire in altri modi. In ogni caso, la misura irlandese si unisce a una serie di misure prese nel paese per combattere l'abuso di sostanze. Secondo voi, per sensibilizzare su un tema e inserire un'avvertenza sulle etichette può effettivamente essere efficace?